ma le premesse ci sono tutte in ambito femminile siamo alla quarta e ultima rotazione alle parallele asimmetriche osserviamo Paola Galante non può mancare certamente lo sguardo di Enrico Casella attento alla prima parte volante come abbiamo già più volte ripetuto dinamico questo esercizio è molto completo nel vari passaggi di uno stagio all'altro ottima questa doppia spaccata alla Endo spaccata alla Stalder mezzo giro di retamento ulteriore spaccata alla Stalder con gambe chiuse e parte conclusione salto all'indietro direttamente